Box Maurizio Piredda Buon pomeriggio a tutti, io sono Maurizio Piredda, CEO e co-founder di Boutiful Cosa vedete negli occhi? Scusate Abbiamo un problema, non parte Non parte il video Ok, cosa vedete negli occhi di un cane? Cosa vedete negli occhi di un cane? Io vedo la mente di un animale pieno di potenziale e capace di creare sempre nuove interazioni con altri animali o persone La maggior parte di queste persone però è costretta a lasciarlo solo in casa E perciò diciamo che il cane interagisce con il suo divano, con le sue scarpe Nelle peggiori ipotesi capita di tornare in casa e trovarla così Da oggi il cane potrà interagire con la Boutiful Box È una console di gioco che intratiene il cane mentre il padrone non è in casa Questa è Camilla È un cucciolo di circa tre mesi e mezzo che sta imparando a utilizzare la console e lo ha fatto in un tempo brevissimo E poi la nostra console è estremamente sicura Infatti non sovralimenta il cane Ed è totalmente impostabile la quantità di cibo da erogare giornalmente E inoltre è alimentata da una comunissima powerbank In questo modo non si hanno cavi sparsi per la casa È tutto impostabile tramite l'app Si può avere un riassunto della giornata del cane Controllare le statistiche di gioco O programmare le sue attività scegliendo anche i livelli di gioco Naturalmente per noi l'utente e l'acquirente sono due soggetti separati Perciò abbiamo voluto garantire anche all'acquirente un'importante esperienza d'uso Tramite l'app Infatti può giocare in diretta con il suo cane E premiarlo quando ha un comportamento corretto Tutto questo costerà 149 euro E dopo l'utente potrà acquistare le ricariche da inserire nella console Ci rivolgiamo a delle donne smart e indipendenti Che vivono in un appartamento con il proprio cane Sul quale dedicano moltissimo del loro tempo libero Le contatteremo attraverso dei contest Che creeremo per i possessori della Boutiful Box In questo modo saranno premiati i cani più bravi O i video più divertenti messi in red Poi sponsorizzeremo i Dog Trainer Per la promozione del nostro prodotto E ci inseriremo infine nel canale business to business Prezzo i pet store Che lo scorso anno hanno avuto una crescita del fatturato del 18% 4 italiani su 10 vivono con un cane In Italia infatti vivono 7 milioni di cani E la spesa e il fatturato del settore pet care Si avvicina ai 2 miliardi di euro Con una crescita annua maggiore del 4% Per il futuro abbiamo in mente un'intera piattaforma di gioco Che aumenti le possibilità ricreative del cane Stiamo già prototipando la console olfattiva E la pallina smart Per quanto riguarda i competitor Il mercato è pieno A livello di pet technology Tra i competitor diretti perciò Abbiamo solamente start up Un po' come noi O magari leggermente più avanti Per quanto riguarda invece i competitor indiretti Possiamo citare i giocattoli classici Come i Kong Oppure gli esili per cani O i pet sitter Però solo Boutiful Box Riesce a garantire un livello di intrattenimento Tale da garantire la totale sicurezza La totale sicurezza nello stare in casa da solo E dare inoltre la possibilità al padrone Di interagire in maniera così diretta con lui In questo momento stiamo testando le bette private E il mese prossimo lancieremo il prodotto su Indiegogo Per entrare nel mercato a metà del 2017 A oggi abbiamo raccolto più di mille email di persone interessate Ricevuto più di cento prenotazioni E venduto otto beta private Abbiamo bisogno di un investimento di 90.000 euro Per entrare nel mercato E sviluppare correttamente il prodotto Il nostro team è giovane Ma con tante potenzialità E differenti background È molto completo Abbiamo anche un educatore cinofilo Che si occupa dei test E della parte Dello sviluppo dei giochi Perciò Se anche voi come me Non volete che il vostro cane Si incolli tutto il giorno davanti alla tv Investite in noi Perché siamo un team forte Che risolve un'esigenza reale Siamo le persone giuste per questo progetto Grazie Sì, è questa Posso prenderla? Allora, vai davanti alla giuria Per le domande Io faccio il valetto Vai Up to you Any questions? Bruce Herling Microphone Dice che tu fai dei soldi Vendendo anche del cibo per cani Sì, sì, sì Noi vendiamo la console Con un bassissimo ricarico Perché vogliamo Che cosa succede se qualche tuo competitor Vende il cibo a un prezzo ancora più basso? No, ma noi vendiamo proprio una bottiglia Che produciamo noi E si inserisce E poi abbiamo Diciamo in programma Di ricevere royalties Per la produzione Abbiamo già diversi Diversi partner Che si occupano del food Simone, ti ho visto ridere a un certo punto? Sì, perché C'è il microfono? Voi mi hai messo alla prova Perché io dico di migliorare la vita delle persone Non ho mai pensato A migliorare la vita dei cani Però C'è un rischio che questo Questo nuovo strumento Faccia passare ancora meno tempo Ai padroni a casa Nel senso che diventi un po' Una sostituzione Allora, sì Diciamo che il rischio c'è Ma Noi tentiamo di Di disincentivare la gente Dal fare questo Perché Comunque sia Avendolo sviluppato con veterinari Con educatori cinofili Siamo stati molto attenti A quantificare i giochi In modo tale che il cane Non passi tutta la sua giornata A giocare Con l'altro lì Esattamente Abbiamo I nostri giochi Hanno dei programmi Determinati Nella serie Iniziano Poi ci sono diverse pause Sono diversi step di gioco Sì Bene Ancora 30 secondi C'è un'altra domanda? 30 more seconds Go Neil Quali sono i giochi che può fare? Perché ho visto tanto delle luci che brillano E il cibo Ma che cosa può davvero fare? Con questa console può Ha dei giochi di luci In questo preciso momento È un gioco training È un gioco di ingresso Diciamo E qualunque luce Qualunque luce premia Riceve il cane riceve il premio Riceve un premio? Riceve un premio e una crocchetta Ok crocchette In questo modo impara Qual è il comportamento corretto E tenta di ripeterlo Ma Non è che Premia e mangia Premia e mangia No I giochi sono una difficoltà crescente Infatti Inizia con tre Poi Dopo che fa cinque risposte corrette di seguito Passa a due luci per volta Poi Diventa una E poi gli date la laurea direttamente Mandate all'MIT Sì sì Abbiamo Bene Ok grazie Grazie Maurizio Grazie 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 a tutti